Doppia emergenza ambientale a Isernia, cominciamo con la notizia buona, infatti rientrata la situazione di allarme per le acque del torrente sordo, inquinate da alcuni scarichi fognari in zona Le Piane, nei pressi della caserma dei Carabinieri, come conferma l'assessore all'ambiente Domenico Chiacchiari. Abbiamo risolto praticamente che era successo, c'è le fogne che hanno un troppo pieno, con questi eventi atmosferici che ci sono negli ultimi giorni, praticamente si sono ammucchiate delle sterpaglie vicino a questi bui, costruendo questo tubo di scollo della fogna, il troppo pieno ha rovesciato in questi canali che poi scaricano nel fiume. Abbiamo risolto pulendo tutto quello che c'era da pulire intorno a questo pozzetto della fogna, quindi adesso non ci saranno più scoli di fogna all'interno del fiume. Resta invece alta l'attenzione su un fenomeno deprecabile, cioè quello della gente che invece di conferire gratuitamente rifiuti ingombranti presso il punto di raccolta della smaltimenti sud incontrata alle piane, preferisce lasciarli accanto alle isole ecologiche delle frazioni, vera e propria inciviltà, in quanto basterebbe arrivare alle piane per scaricarli e smaltirli senza alcuna spesa e alcun problema. Abbiamo proprio riscontrato un aumento di spazzatura nelle zone vicino alle strade di collegamento con alcuni comuni, perché questi comuni hanno iniziato con la porta a porta e abbiamo un incremento di spazzatura gettata su queste isole ecologiche stradali, che è mia intenzione togliere, ho parlato anche con l'assessore Cavaliere alla Regione, se ci dà questo finanziamento che abbiamo chiesto ormai da due anni, toglieremo tutti i bidoni per partire con la porta a porta anche nelle borgate. Questo è l'unico sistema per sistemare la spazzatura nelle borgate. Tenendo presente, sempre ricordando che l'educazione civica, il rispetto delle regole, perché non è possibile trovare ancora spazzatura gettata nei fiumi, specialmente sulla zona delle piane, dove anche lì adesso metteremo dei cestini, cercando di risolvere in piccola parte, perché poi dipende sempre da una questione purtroppo di una sensibilità civica delle persone.